Io sono Samone Rossi, allenatore di pattinaggio corsa a terzo livello e alleno lo Skating Club di Iesi. Iniziamo questa serie di tutorial che abbiamo deciso di intitolare il pattino questo sconosciuto. Questo è il pattino a rotelle specialistico per l'attività di pattinaggio corsa. È uno dei tanti modelli esistenti al mercato, ma fondamentalmente cambiano i colori, cambiano alcuni accorgimenti tecnici, ma fondamentalmente sono tutti composti da una scarpa, un telaio, tre o quattro ruote, questo è il modello a quattro ruote, ma ci sono anche modelli a tre ruote, e con il nostro pattino per le specialità corsa.